Adesso siamo alla casa Lagomar, che era la casa di Omar Sharif, che è stata concepita insieme a Maric e un altro architetto che si chiama Soto. Si trovava in una cava, che non so se potete vedere qui nella cava. Da dentro è mezzo a solito, perché c'è ancora una pescina. Omar Sharif è il tizio, ha fatto un sacco di film, e i nostri genitori se lo ricordano sicuramente. Un po' divertito. Ha fatto il dottor Zivago, ma è famosissimo, se vedi una foto te lo ricordi chi è. Lì c'è la cava. Noi adesso entriamo. Andiamo prima a una mostra di maschere africane. Guardate la casa che si vede, che si intravede. Che roba! Cioè dai, ma è assurdo. Sviluppa tutto dall'interno, vedete? Il tizio che esce là dietro sulla piscina. Cioè avete capito Omar Sharif? Tutto questo perché gli è piaciuto Lanzarote, e ovviamente ha detto voglio una casa. Beh, ovvio. Dai! Ma guarda, ma qui se non c'è un vetro. Questo era tipo il suo balcone. Cioè non me ne capacito. Qui qua che contempli casa tua. Jack! Ordiniere. Questa è la casa che mi merito. Là c'è tipo il cosino per prendere il tè, ma è incredibile. Omar Sharif! Ti amo! Ma che bello! Guardate queste, come se la vedono. Non so se... Non so chi stesse meglio. Se Omar o... No, Rick. Qua si scende. Forse da qua vediamo, addirittura dove eravamo prima. Eravamo prima dentro una di quelle rocce lì. Uno di quei buchi. Di dietro. Guarda. Comprala. Io come Omar, seduto sulle sue palme, a sorfeggiare un caffè. Guardate che bello. Mamma mia. Che lusse. Vedi, eravamo là prima noi. Esatto. Pov si chiede Omar Sarif. Vedete qui? Si vola. Ok, adesso andiamo. Ginnastica ne faceva, eh? Su, giù, su, giù. Dai! Il salottino! Guardate! Ma vabbè, ciao! Ma che bomber! Terneggio. Terribile. Cioè, terribile nel senso buono. Con la mascherina! Mi è stato male! Immaginatevi gli anni 80 e questa gente... Non so se era ogni anni 80. E questa gente che festeggiava così. Cioè, i miei genitori hanno visto questi momenti. Andiamo al museo, manco. Qua c'era gente che se l'è spassata finché ho potuto. Non ne vale la pena. Perché potete veramente... A parte la Lanzarote in sé che ha una varietà di territori che su un'isola sola trovate un sacco, ma veramente un sacco di alternative. Cioè, dalla parte più... più verde a quella più vulcanica, a quella più wild dell'oceano, a quella un pochino più da spiaggia. Mi sento Alberto Angela. Pensare che qua c'è stato un tizio e ci ha vissuto veramente mi... Non lo so. Ovviamente la mia guida che chiamerò la guida per presto a pochissimi. Così, nel caso in cui, visto che mi avete scritto, non per altro, ma visto che mi avete scritto magari consigli, cose... Ovviamente io non sono una guida turistica, quindi non mi prendete... No, cioè, mi prendete come parola da. Se siete come me che non è che avete il carattolo di pretese, è comoda. Può esservi d'aiuto, ecco. Salutiamo la sala di lettura. E via! Si scende, guarda che vuoi il panorama. Adesso ci volo. Adesso cado. Cado insieme a voi. Siamo al telefono. Hola! 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 Tutti simpatici? Ok, di qua. Questo è così? Ah, questa è la sala più grande. La sala barbecue. Date i buchi! No, vabbè, ma è assurdo. Immaginatevi avere una festa dei 18 anni qua. Così. Cioè, altro che il boss del cerimone. Vado su. Faccio questi piccoli gradini cadendo e vado su. Rivolute esserci nella luna dei miele dei miei genitori. Alle Canarie. Se dove sono andati? In che posti assurdi. Guardate qua! No, ma... Ma... Qui neanche qui, porte, niente. perché tanto è uguale. Sempre uguale. È sempre caldo. Quindi qua si vede laggiù c'è la piscina. Questa è una pianta di aloe? Non credo. Ma che bello! Ma non vi sentite in contatto con la natura? Vi sentite in contatto con la natura? Io sì. Questa è la calda. No. No? Non è ancora il giardino. Questo è ancora il giardino? Ovviamente. E va anche a sopra. No, ma dai, ma guarda! Io sono in bilico. Adesso mi spiaccico. Adesso muoio. Oddio! No, non se lo guarda. Ci sono dei gradini qua per lanciarsi. Il passaggio di dietro. Proviamo? Sì. No, lì forse è il passaggio per tornare indietro. Sì, forse sì, c'è ragione. Oh, un caldo, ragazzi. Sto per morire. Qua va sotto. C'è la casa. Entra sulla casa. Ah, è la casa. Guardate! C'è, vedo una finestra là sopra. Cioè, guardate. Vabbè. Andiamo dentro la casa? Andiamo dentro la casa? Dai. Che roba! Ho 18 milioni di strati. Vi giuro, fa un caldo incredibile. Eravamo là. Ma guardate da qua che vista! Qui c'è un altro salottino. Easy. Immaginatevi a cucinare con questa vista qui. Con la vista, laggiù c'è l'oceano. Non si vede con la foschia. Questo bianco è incredibile perché illumina, a volte, tantissimo. Un bel salottino. Zecca. Camera da letto. Qui cosa ci sa? Lo stato il bagno. Ah, il bagno! Che bello! Che carino! Guardate, con la finestrella! Un gradizio più piccolo. C'è addirittura un buco sopra. Ma che minimal! Beccatevi la vista. C'è ancora una piscina. Quella vera. Quella di là non era la piscina, ma solo la sala relax. Che è questa. Guardate che bello. Col solarium. Che bel benessere. La casa è un po' piccolina. È un po' claustrofobica la casa. Però forse c'è ancora tutto questo... Ci sono ancora tutti questi complessi che sono le dependance, però effettivamente. c'è un'altra casa. Quindi magari si sviluppava su diversi piani. Non male. È una casa vacanze. Sì, è una casa vacanze. Cioè, umile anche. Là sopra c'è un mega terrazzo, quindi c'è ancora pieno di sopra che abbiamo visto prima. Di dentro è piccolina, però ci sta. Io sto sempre fuori, sempre seguito. Adesso riscendiamo da sotto. Andiamo a vedere l'altra parte che dovrebbe essere la piscina di là. Ecco qua è dove eravamo prima. Ecco là giù è dove c'era la sala quella grande dove fanno il barbecue e lì la sala lettura. Là è la sala dove eravamo prima che è quella contemplativa. Bellissimo. C'è un altro posto, un altro spot. Perché dovevi girare il sole c'era sempre l'ombra. È vero! Bellissimo. E' una per ogni orario. Una per ogni orario. Sì, Allora l'altra piscina quella che vediamo da sopra non è accessibile perché infatti si passava da là e qui c'è un passaggio per ritornare nell'altra sala che cioè c'è l'acqua qui. Adesso cado di sicuro provando a fare un video. Oh che paura! Che bello! Cioè qua avevi bevuto un giorno in più finita eh? Che paura! Ot知道! Tta reader! Ah che, daه horn؟ Cioè qua! Cioè qua!